L'ultima Nishnà, l'ultimo paragrafo del nostro sesto capitolo, è forse fra tutti gli altri il più corto, ma non meno importante, anzi assai profondo e il suo significato ci fa notare quanto è importante l'attaccatezza degli esseri umani al proprio creatore. Leggiamo l'undicesima Nishnà, cioè l'undicesimo paragrafo. Qualunque cosa il Santo Benedetto, egli sia, ha creato nel suo mondo, non l'ha creata altri che per la sua gloria. Secondo quanto è detto, tutto ciò che rega il mio nome ho creato, formato e ho fatto a mia gloria. Ciò è scritto nel libro del profeta Isaia al capitolo 43. E da quanto è detto nel libro dell'Esodo al capitolo 15, il Signore regnerà per sempre in eterno. Quindi, avete visto, è molto breve come testo, ma assai profondo. Cioè a dire che Dio ha creato il mondo con la volontà di mettere, di creare tutti gli esseri viventi, la natura e tutto ciò che popola questo nostro pianeta. Come una coppia si unisce in matrimonio per formare una famiglia, mette su un'abitazione, costruisce delle stanze per poter dedicare ai propri figli, quasi mettendosi in secondo piano rispetto a quello che saranno i figli che popoleranno quell'abitazione, così Dio si è comportato nei confronti del nostro pianeta, della nostra terra e soprattutto del creato. Ma la Mishnah stessa ci dice che tutto ciò Dio lo ha creato sì per tutto il resto della creazione, ma soprattutto lo ha creato per la sua gloria, cioè per il suo onore. E riportando il maestro della Mishnah che ha composto questo paragrafo, riporta un versetto di Isaia che sicuramente ci collega alla creazione del mondo e dice praticamente tutto ciò che si chiama con il mio nome l'ho creato per il mio onore. L'ho creato Berativ, il verbo Bara, è il verbo della creazione, Berishit Bara Elohim, creare dal nulla, da una materia non esistente. Poi dice Yezartiv, l'ho plasmato, cioè ho usato una materia che esisteva per poter creare delle nuove cose. Av Asitiv, e persino l'ho completato. Asher Bara Elohim la Asot, dice il versetto che conclude il racconto dell'opera creativa. La Asot significa portare a termine, fare, noi traduciamo appunto questo verbo con il termine fare, ma la Asot significa completare, portare a termine un'opera iniziata. E quindi l'ho creato dal nulla, l'ho plasmato e persino l'ho portato a termine. E conclude la Mishnah dicendo il Signore regnerà per sempre in eterno. Cioè mentre l'essere umano è destinato ad avere un ciclo nella sua vita materiale, cioè la nascita, la vita e quindi la morte, Dio, che è il creatore, andrà avanti per l'eternità, vivrà per l'eternità e soprattutto per lasciare quello che è il suo segno, la sua opera, la sua creazione ai nostri posteri, ai nostri discendenti.